Ciao a tutti ragazzi qui oggi è Snaggino e siamo in compagnia di Masarone e Switch Ma avete fatto star notevere? Ragazzi soltanto per voi oggi siamo tornati su Dungeon Defenders che hanno aggiunto dei livelli nuovi e hanno aggiunto anche delle skin che Masarone ha prontamente acquistato Masarone mettiti un attimo in mostra grazie Guardate ragazzi quanto è figo a tema Star Wars con anche il pet di Star Wars Che mi appresterò a prendere anche io molto presto Appresterò presto Madonna sei peggio di Gizzy quando ci cagate Cioè sempre Allora ragazzi oggi andremo a fare un livello nuovo Mi raccomando lasciate tanti like se volete altri episodi di Dungeon Defenders Se non li lasciate li portiamo lo stesso perché non mervega niente Comunque Acab andiamo avanti Bello Severo ma giusto Ma l'hai visto con che animazione siamo usciti dalle nuvole? Io ho visto che c'ha 3 milioni che il boss ha 3 milioni e mezzo di vita Guarda il cazzo barzotto Oh oh c'è un dialogo Un dialogo sei serio? C'è uno? Guarda che mi è stanchissimo Ficca è morta ha sposato troppa roba Troppi diamanti troppo cash Noi siamo dei narcotrafficanti stiamo cercando di portare la coca da una colombia Stiamo scappando abbiamo rapido il bambino Eh la madonna Adesso è arrivata la mamma del bambino vedi è questa molto carina Molto zoccola Ok Cosa sono quelle vene che escono dalla nave? Ma come siamo arrivati a tutto ciò esattamente? Guarda Masarone Da goblin What the fuck? Sembra la cosa degli zerg di Starcraft Vero Ah ecco Ma non si è mai giocato Ecco che ci tiene lo spunto in testa È un entai È un entai Oh è un entai ragazzi Il ponte è un entai Bene Il ponte è un entai Non c'è Dai ha solo 3 minuti e mezzo di vita Oh oh Questo è arrivato ragazzi Questo è il cattivo di Kingdom Hearts Dov'è? Non lo vedi Eh lui lo vedi È Xehanort Ciao Xehanort Ciao Ma dov'è? Ma che non lo vedi? No Attenzione Io sono ripartita Ragazzi non sto vedendo il trailer Strozzi C'è zitto Guarda Oddio raga Può diventa Hitler È lui Oddio 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 Bello Il boss Così proprio Ok dove sono? Bello Get ready to defend the ship No Mi resto cazzo Dove Absolutely No Non sono fatto Mmm Ma ci sono i cannoni Guarda che ci stanno Le guardie tipo bega spaventate dentro è vero guarda qua vieni qua spiegate ah coglioni pussi dobbiamo difendere sto coso qua che è tipo attaccato da ogni lato si però ci abbiamo i cannoni guarda ascoltate ci mettiamo solo qua e difendiamo solo sta zona ma se metti tre muri qua e tre muri qua e adesso solo trappole distruzione Hitler e cose varie vai oh oh ma ci stanno a sparare oh che sta a far qua oh oh spara 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 oh ma ci sta a sparare con il cannone pure no regà che sono ste cose questo è un bug ma voi cittato ma siete sicuri che si difende da rip colo angelo Qualcosa qui dietro? No Dice che una viverna sta a portare C'è una viverna, cos'è questa viverna? Ma dove? Quella roba gialla lì gigante Cazzo fa, che cazzo Si stava a portare via? Non lo so ma non lo voglio Sapere, raga 1v1 1v1, oh oh oh, troppo forte Troppo forte, 1v1, 1v1 Ma caricato? No? Troppo meno Io so, io devo un attimo, oddio santo Raga il cannone, il cannone Sparate col cannone corrispondente nostro Veloci, vai, vai ancora, vai ancora Così, bravo masa E' malato da tutt'altra parte, l'altro cannone No, sempre con lo stesso, è corrispondente di questo Dispara, vai che è quasi morto? No, ancora no No, manca pochissimo Vai ragazzi, c'è soltanto 2 milioni e 7 E' un'altra viverna, un'altra viverna E' un'altra viverna di merda, eccola Fatta Cos'è quello? Raga, è caduto qualcosa per sopra Qua, 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 dove sei tu adesso? Ho preso un cristallone Della viverna, ma non so che ci devo fare Ehm, mettiglielo in culo Eh no Guardate, vedete che so giallo Eh, secondo me ora sei Hitler Velo, penso pure io Ok, io potenziavo tutto quello che potevo potenziare Portate tutto almeno al 2, tipo, che ne so Fatto Fatto, amico Raga, bravo, bravo Sunidex che sta spara pure qualcosa Bravo Cosa sta facendo? No, no Ma mi ha catturato, ragazzi Come ti ha catturato? Ah, coglione Ragazzi, sono in prigione Sto morendo, tipo Ma davvero? Eh, ma pure a me Muoviti, c'è occhio che muore lì sotto Figa Io ho la move speed aumentata Non mi becca Dove vado? Penso che dobbiamo saltare lì dove c'è quel portale viola Dove? Non lo vedo Qua Ah, là Ok, sono uscito Vieni qua, figlio di puttana Che cazzo Anch'io, anch'io Eccomi Stardo Ah, c'è di nuovo il cannone Il cannone Raga, attenti al coso pure Eh, io sto attivando il cannone Ok, ok No, devi attivare questo che sto attivando io, Masa Ma lo sto attivando io Dovete attivare i corrispondenti, se no E altro? Ma che serve? Non sta al cannone suo Ragazzi, arriva la viverno con qualcosa di speciale Non gli sparate finché non arriva in zona nostra per prenderlo No Vai, lo prendo, eh Vai, vai, prendi Vedi che c'è un aura muo intorno? Ma io? Eh, guardati Sì Ragazzi, sono Hitler State tutti intorno a Snidex Sì, ragazzi, mi do il buff Ragazzi, sbrigatevi Stai zitto, Snidex Porco, tu hai sempre di cacate Speramente Ma state un po' zitto Figa, sempre a dare merda alla bocca Ho capito che c'è la mia Sempre a dare merda alla bocca Che cazzo Basta, guarda che io ti denuncio Ah sì? A chi? Alla polizia del divertimento Esatto Doppio cannone Oddio Ma non è E cazzo Buttiamo giù questa pincela del mezzo Ragazzi Ragazzi, dobbiamo sparare a lui Dobbiamo fermargli le meteore Oh forza Non è che dobbiamo fermare Io sto cercando di fermargli i cannoni No, no, dobbiamo picchiare lui Lo sto picchiando Lo sto picchiando, mannaccia quel porco No, no, no Cannone, cannone, cannone Occhio, occhio, occhio Che c'è la succhia No, no Puttana È cazzo È cazzo È cazzo È cazzo È cazzo È un caglione Wow Allora Potenziamo ancora Vediamo 150 150 150 150 200 Questo, ok 150 Ripara Ragazzi, perché sono esplosi tu Perché è esploso tutto Perché è l'esploso qui Meme, che meme che ci ha tirato Guardalo Ragà, ma ci ha memmato le difese Appoggia Gli romana Appoggia Meme, mi tutte le difese E puoi fare il cazzo che puoi Capito Coglione Ok La testa a fiamma infernale nel fuoco Mamma mia Quanta roba gli stiamo a tirare sto cosa Eh, io C'ho 239 HP Buono Gli sto a tirare le frecce Gli sto a tirare le palle di fuoco Gli sto a tirare i meteore Vi è qua Vi è qua Testa di merda Dai, solo 100.000 HP Ragazzi, ho 1000 HP Ragazzi, ho 600 Coglione Zitto Bene Oh mio dio, adesso si butta giù Ciao, rip Ma WTF Ma che cazzo Ma quante navi c'ha Il cristiano Arma leggendaria La state vedendo? È la madonna Guarda, si vede fuori Cioè, si vede dentro Le stelle Bene ragazzi Sperando che il video vi sia piaciuto Vi ricordo di lasciare like Seguitemi su Facebook e Instagram Noi ci vediamo al prossimo Video Bella Ciao Ciao stupidi Oh, adoratato Ciao 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 Ciao